Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Fabio ed oggi riparliamo del sistema operativo mobile Microsoft dove nei precedenti video siamo andati a vedere l'app impostazioni e perché utilizza ancora un OS del genere nel 2019 visto che non è più supportato. Andiamo però all'argomento di oggi ovvero visitiamo il sito dedicato alle video guide per poter utilizzare al meglio Windows Phone in particolare l'ultima versione disponibile ovvero l'8.1 Come noterete ci sono varie categorie in maniera che l'utente possa scegliere la guida in base alle sue esigenze Per tutti i video comunque è disponibile anche un audio per diciamo arricchire la guida All'interno di ogni categoria sono presenti varie voci in base all'argomento Vediamo in video insieme Vediamo in video insieme Vediamo in video insieme Il titolo della pagina è un po' forzato, non si tratta di un emulatore vero e proprio Sono semplici video se no a quest'ora potevamo interagire col sistema Se volete avere un vero emulatore potete installarlo su Wisa Studio Così potete simulare in tempo reale ogni singola funzione di Windows Phone Sicuramente ci saranno altri siti simili però giustamente vi lascio quello ufficiale in descrizione Non ci sono altre cose da dire, magari se volete cambiare la lingua di visualizzazione potete farlo qui Per questo argomento è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video